A poche ore dalla fine della stagione è già tempo di parlare di futuro in casa Perugia e secondo quanto riportato dal sito delle giornaliste di Sky Sport Gianluca Di Marzio è in programma per domani l'incontro tra il presidente Massimiliano Santopadre e l'allenatore Fabio Caserta per parlare di programmi, progetti e prospettive in vista del prossimo anno. Da questo appuntamento si capirà se l'allenatore resterà a Perugia e con quale obiettivo. Caserta è stato contattato anche dal Brescia, in particolare dal nuovo direttore sportivo Gemmi che lo vorrebbe portare al Rigamonti. Tutto l'ambiente bianco-rosso spera naturalmente in una permanenza delle tecnico calabrese che in questa stagione ha compiuto tante piccole imprese che hanno portato ad un grande trionfo per nulla scontato. Un Caserta che si è espresso così alla domanda sul suo futuro nelle post-gara di Ternana-Perugia. Il prossimo campionato di Serie B sarà un campionato difficile, molto di più rispetto a quello degli ultimi anni perché ci sono delle squadre molto forti. Prima di parlare del prossimo anno ci dobbiamo staccare un po', cercare, almeno parlo personalmente, voglio staccare un po', riposare perché è stato un anno molto impegnativo e quindi adesso ci vuole un po' di riposo.